Cominiamo insieme il verbo camminare, è un verbo di prima comunicazione perché finisce in aree, al presente dico io cammino, tu cammini, lui cammina, noi camminiamo, voi camminate, loro camminano. Passato prossimo, due parti, la prima è il presente del verbo avere, la seconda è il participio passato del verbo camminare, tutto insieme io ho camminato, tu hai camminato, lui ha camminato, noi abbiamo camminato, voi avete camminato, loro hanno camminato. Il perfetto, quando lo uso, quando è qualcosa di lontano che voglio raccontare e che ha avuto una continuità, quindi dico io camminavo, tu camminavi, lui camminava, noi camminavamo, voi camminavate, loro camminavano. Domani, il futuro semplice, io camminerò, tu camminerai, lui camminerà, noi cammineremo, voi camminerete, loro cammineranno. Ricordatevi sempre, la doppia N alla terza persona totale. Alla prossima.